A Tavuglia, dopo i dieci anni di amministrazione di Francesca Paolucci, che ha deciso di non ricandidarsi a un terzo mandato da sindaco, la lista civica, insieme per Tavuglia, scende in campo in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno, candidando Patrizio Federici. 64 anni, avvocato, già assessore con delega alle attività economiche, sport, turismo e cultura, ed anni attivo nel campo del volontariato. Sono contento di poter rappresentare nei prossimi anni, qualora si dovesse vincere, il mio territorio. La lista si chiamerà insieme per Tavuglia, è un invito rivolto soprattutto al sottoscritto e alla propria lista, perché insieme dobbiamo raggiungere quegli obiettivi che ci siamo dati con un ricco programma, che poi andremo ad analizzare nelle varie serate. È un invito ai cittadini di collaborare con l'amministrazione, è un invito ai giovani, a quelli della terza età, con i quali già abbiamo interpreso un bel percorso nell'ambito comunale. Insieme dobbiamo raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati, insieme per il territorio, insieme per il sociale, per la cultura, per lo sport. Poi dobbiamo essere anche molto bravi a recepire, fare nostri, diciamo, quelle opportunità che ci dà attualmente il PNRR. Si riparte puntando su un salto di qualità nel solco della continuità dei dieci anni di amministrazione Paolucci. Sino ad oggi, negli anni in cui ho rappresentato per la mia parte l'amministrazione comunale, è stato fatto tanto. Come ho detto prima, il sindaco Paolucci si è impegnato tantissimo, ha messo a disposizione tutte le sue competenze per realizzare quello che mancava. Nei prossimi anni a noi non resta altro che chiudere, diciamo, tutti quei cantieri che ancora sono aperti e cercare di realizzare tutte quelle nuove opere che abbiamo inserito all'interno del programma. Quindi cerchiamo, diciamo, di avere un paese più vivibile, più sicuro e soprattutto cerchiamo, che secondo me è un punto importante, di far agire soprattutto i cittadini con l'amministrazione comunale. Che magari in passato qualcosa è mancato, ma cercheremo di migliorare soprattutto questo aspetto.